una delle iniziative legate al carnevale è la caccia al tesoro quando si svolgerà e in che cosa consiste sì quest'anno abbiamo pensato a questa caccia al tesoro andante con brio e appunto ovviamente una caccia al tesoro tutta sul tema dantesco ma non vi preoccupate semplice logicamente ed è per tutti si svolgerà il 28 sabato 28 agosto si partirà dalla piazza e per tutto il centro storico è una piccola toccatina in via dante ovviamente per partecipare bisogna essere tesserati carnevalesca per i maggiorenni il gruppo deve essere minimo 5 persone massimo 10 comunque tutte le informazioni sono sul sito del carnevale di fan ovviamente non c'è bisogno di green pass entro quando sarà necessario prenotare bisognerà prenotare bisognerà iscriversi entro il 25 di agosto ci vediamo tutti al carnevale statico intanto per la prima settimana 21 e 22 agosto in sassonia